La quarta sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, preseduta dal giudice Vittorio Anania, ha confermato tutte le condanne già inflitte in primo grado nell'ambito del processo scaturito dalla maxinchiesta antimafia Vultur, eseguita dalla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, che ha portato alla luce gli interessi della famiglia mafiosa di Camastra. Il boss Rosario Meli, alias Upuparu, è stato condannato alla pena di 17 anni e 6 mesi, 14 anni e 6 mesi per il figlio Vincenzo, mentre 13 anni e 6 mesi sono stati inflitti al tabaccaio del paese Calogero Piombo, ritenuto il cassiere della famiglia mafiosa di Camastra. Condanna anche per l'illo di Caro, esponente di rilevo della mafia di Canicattia, a cui sono stati inflitti 22 anni in continuazione e che assorbe dunque le condanne a 14 anni nel procedimento alta mafia. Confermato totalmente dunque l'impianto accusatorio, sostenuto in aula dal sostituto procuratore della direzione distrittuale antimafia, Alessia Sinatra, è in appello dal procuratore generale Emanuele Ravaglioli. Rosario Meli è il capo della famiglia mafiosa di Camastra, avrebbe imposto il pizzo ad una ditta di onoranze funebri. Condannato anche l'illo di Caro, pezzo da 90 della mafia Canicattinese. L'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Agrigento fece luce sul giro di racket in paese. In seguita alla stessa operazione, il comune di Camastra, guidato dall'allora sindaco Cascià, fu sciolto per infiltrazione mafiosa. L'indagine, peraltro, si concentrò anche sull'omicidio di Giuseppe Condello, originario di Palma di Montechiaro, ucciso insieme a suo guardaspalle nel 2012. Condello, boss emergente, avrebbe per un periodo scavalcato proprio Rosario Meli nell'imposizione del pizzo ai commercianti del paese.